ci ha lasciato venerdì scorso all'età di 99 anni 5 mesi e 24 giorni anellino manocchi uno degli ultimi testimoni della resistenza già tenente colonnello del diciottesimo reggimento di fanteria fatto prigioniero a corfu ed è portato in un campo di concentramento in germania per essersi rifiutato di aderire alla repubblica di salò la precisione nell'indicare i mesi e i giorni della sua età non è casuale anellino infatti nello come era conosciuto da tutti scandiva il passare del tempo con una lucidità invidiabile e chiunque si trovasse a passare dalle sue parti non poteva che rimanere affascinato dei suoi racconti che iniziavano appunto con la presentazione con tanto di età precisa al secondo è sì che di cose da dire nello ne aveva lui che da soldato italiano ha sempre difeso la patria anche quando il governo che lo aveva mandato in guerra era cambiato nessuna ideologia da sbandierare ma solo l'onestà di chi sulla propria pelle ha capito il vero valore della vita la sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 25 gennaio quando partecipò insieme all'ampi di cui faceva parte da qualche anno dopo che il governo gli aveva riconosciuto lo stato di reduci degli internati militari italiani al raduno fanese delle sardine in pochi minuti ricorda paolo pagnoni presidente dell'ampi fano riuscì con le sue parole a commuovere tutta la piazza una memoria straordinaria la sua che lo ha accompagnato per tutti i lunghi anni in cui ha raccontato a centinaia di studenti delle scuole le sue tragiche esperienze un ufficiale insignito del titolo di partigiano fiero di mostrare le carte che gli riconoscevano i suoi meriti e quel libro 600 volte no del quale era particolarmente orgoglioso e dove racconta gli anni distenti della prigionia nello ultimo internato militare italiano fanese ancora in vita è stato lucido fino a pochi giorni prima di lasciarci tant'è che con i familiari già da tempo stava organizzando la grande festa per i cento anni che avrebbe compiuto il 22 ottobre una festa nella quale siamo convinti avrebbe raccontato a tutti per l'ennesima volta il suo passato e dove tutti ne siamo altrettanto convinti sarebbero stati ad ascoltare con attenzione le sue parole parole intrise di coraggio e orgoglio dette da un uomo che ha sempre difeso il valore della pace e della vita per 99 anni 5 mesi e 24 giorni